dotata di una potenza seduttiva e ricercata nelle finiture la stone martin dbs è la perfetta fusione di prestazioni raffinate e lusso minimalista rappresenta una pietra miliare nell'applicazione delle tecnologie aston martin e costituisce un aperto invito alla guida in definitiva è la tentazione suprema è raro trovare sportive veramente lussuose in un mondo spesso dominato dalla mediocrità le genuine innovazioni di design e i successi dell'ingegneria sono a pannaggio di pochi illuminati la stone martin dbs che affonda le radici nella competizione e vanta un lussuoso equipaggiamento è una di quelle auto costituisce uno dei più alti traguardi dell'aston martin in fatto di potenza e rappresenta la sintesi tra forza brutta tecnologia da gara ed eccellenza di design monta un motore v12 costruito a mano in grado di generare 380 kilowatt 517 cavalli e garantire potenza e prestazioni sconvolgenti come la tuta aderente di un vigoroso atleta la carrozzeria in alluminio e fibre di carbonio avvolge strettamente i muscoli chiusi al suo interno espressi dalle linee tese e dalle fiancate ultra elaborate la dbs utilizza tecnologie sviluppate in gara e si dimostra una diretta discendente della dbr 9 una a puro sangue da corsa che ha conquistato molti dei più importanti titoli di gt endurance tra cui le due vittorie di fila in classe gt1 alla gognata 24 ore di le mans del 2007 e del 2008 i freni in carbonio ceramica e le sospensioni adattabili in grado di regolarsi affrontare ogni situazione rendono la dbs un'auto perfetta sia in città che su pista